Sì, è sempre fondamentale portare a casa la vittoria. Ci stiamo forse abbonando un po' troppo a questi 3-2, cosa che non vorremmo. Oggi abbiamo fatto molta fatica in attacco e quindi poi le scelte loro a muro sono state un po' più facili da fare. Quindi vedremo di ripartire dall'attacco. Complimenti a Busca, però bene che abbiamo portato a casa i due punti.